Lui è Gauguin, un setterino bellissimo, stupendo, bianco arancio. Lui è figlio di una settera inglese pura che è stata abbandonata, sicuramente dai cacciatori forse non era brava a caccia e quando vagava libera e andata in calore si è accoppiata con chissà quale padre. Fatto sta che è arrivata qui in Canile in stato di gravidanza molto avanzata e dopo nemmeno dieci giorni ha messo al mondo Gauguin e altri sei fratellini. Era il 12 febbraio quel giorno. Quando sono venuti al mondo questi pallini meravigliosi. Gauguin somiglia alla sua mamma perché è chiaro che è un setterino. I colori no perché la mamma è tricolore, ha anche un po' di nero. Ha il nero, il marrone e il bianco. Lui invece è prevalentemente bianco, diciamo color crema, con le orecchie screziate di arancio. Amore, lui è bellissimo, guardatelo. Guardate che meraviglia di cucciolo. Ecco la mamma, va a farsi consolare dalla mamma. Lui non ha mai avuto una richiesta, non capiamo il perché. Né lui né i fratellini. Eppure sono sui siti da quando avevano nemmeno due mesi. Sono sui siti ed erano, immaginate già adesso che hanno tre mesi, sono stupendi. Figuriamoci quando ne avevano due. Si vede che nessuno cercava un cucciolo come Gauguin e nemmeno come i fratellini. Gauguin, adesso l'unica cosa che possiamo fare è fotografarti in tutta la tua bellezza, filmarti, far vedere che sei anche un cucciolo tranquillo e sperare che qualcuno chiami. Amore, solo questo posso fare, perdonami. Chi si avvicina? La sorellina. La sorellina che ti assomiglia abbastanza. Ciao Gauguin. Ciao piccolo. Ciao. Non ti preoccupare, non ti lascio nel box. Ti farò uscire di qui presto. Ciao piccolo. Ciao.